Trattoria Pizzeria Belle Arti Situata nel cuore di Bologna, in piena zona universitaria, la trattoria Belle Arti è una delle realtà culinarie più apprezzate sotto le due torri All'ingresso, prima nota, è la cortesia dei proprietari Giovanna e Domenico e il calore dell'ambiente curato e tradizionale, proprio come le osterie di una volta Tradizionale anche nell'architettura, il soffitto, a volte di laterizio a vista, è l'originale restaurato che risale al 1500 Importante la presenza dell'enoteca, ricavata in uno spazio sottostante al locale, interamente ristrutturato e risalente anch'esso al periodo rinascimentale, con volte in mattoni a vista e struttura tipica Questo spazio intimo e accogliente, si rivela il luogo ideale per festeggiare le occasioni importanti Gli appassionati di pizza troveranno, per cominciare, una pasta croccante e spessa al punto giusto Cotte rigorosamente con forno a legna Per quanto riguarda il ristorante, il pesce e la specialità della casa, paella alla valenziana, linguine alla granseola, gamberoni alla griglia Le paste sono rigorosamente fatte in casa, ottimi gli strozzapreti alle verdure